Gave you my money, I gave you my time, why you wanna give me the money, are you serious? I'm going to go to the Lissone, here we go to the Laghetto, Cacciangiulè, we fished Scorfeni, Cicale di Mare, Bomboloni. Lui, perché io per rilassarmi non attacco l'esca, almeno sono sicuro che non succeda niente, dormo e basta. E poi andiamo a mangiare, che è la parte più bella della pesca. Allora, caro Mauro, solo tu potevi riunire qua 5 Colossi, 5 pick-up, tra l'altro uno appena arrivato. Ti chiedo una panoramica, partendo dai Dodge che sono 3, lui l'abbiamo già intravisto in qualche puntata di Bob Gear, però ci sta un ripasso per passare poi agli altri elementi che hai portato qua. Allora Sport, Sport è la versione in tinta, la più cattiva, non è il top di gamma, ma è comunque un allestimento veramente ricco se prendiamo l'upgrade dei pacchetti di accessorio interni. Stiamo parlando di una macchina configurata, secondo me, possiamo nominare una vettura? Una Super Audi, una Super BMW, in un pacchetto veramente ricco. Ok, motorizzazioni? Motorizzazione 5.7 emi da 390 cavalli, col cambio 8 rapporti dal 2013, con la possibilità di montare le sospensioni ad aria. Ok, perfetto. Sospensioni ad aria che monta invece il Rebel. In questo momento lo stiamo vedendo nella sua configurazione più bassa, ma poi le immagini ci faranno vedere come si muove, come si sposta. Lui nasce con uno scopo e un obiettivo diverso. Pronta fuoristradistica, assolutamente. Lo dicono anche, il battistrado sui sedili dentro la dice lunga. Comunque parliamo di sospensioni ad aria da racing, a differenza di quelle dello sport, hanno una modalità differente di funzionalità nello sconnesso. Posizione da parcheggio, posizione aero per le andature veloci, posizione 1 off-road, posizione 2 off-road da guado alto. Allestimento full optional, però con quel pizzico di aggressività in più che si rifà al fatto che nasce per essere uno strumento al limite. Ok, quanti cavalli? 390 come dice Lemi. Anzi, quando dicono 390 o 395, non dobbiamo mai fare confusione, perché c'è una virgola quando parliamo di cavalli o di HP, perché le horsepower sono leggermente inferiori di qualche virgola. Ah ok, questo non lo sapevo, te lo volevo chiedere perché vedo spesso una discrepanza minima. Mi dico, ma dice 395, no, è così. Cioè l'HP è? Sono 390 horsepower che sono 395 HP. Ci hai imparato un'altra cosa bella. C'è qualche virgola nella conversione. Questo che trovo eccezionalmente elegante, raffinato, marchio Ford, uno degli ultimi arrivati. Devo dire anche molto borghese, questa colorazione bianca, il cerchio cromato, insomma è proprio fatto come Dio comanda. Sì, azzeccatissima. Motori? Il motore per eccellenza che hanno dettato i signori della Ford è 3.5 EcoBoost, accompagnato da un 3.5 aspirate, un 2.7 EcoBoost. Non manca l'8 cilindri, il motore Coyote 5.0 litri, che è ereditato chiaramente dalla Mustang, è il più potente ma il meno venduto. Il più venduto in assoluto è il 3.5 EcoBoost. L'America ha sfondato le vendite con un 6 cilindri, prima volta nella storia. Io ho avuto la fortuna di provarlo grazie a te e devo dire che sono rimasto basito. È una macchina stupefacente. Sono rimasto a bocca aperta perché è un 3.5, che sembra un 8, lo sto dicendo per fargli un complimento. Silenziosissimo, una potenza assolutamente inaspettata, un'erogazione super fluida, per cui non mi meraviglio molto che la scelta stia andando su questi 3.6 cilindri. Se uno fa un giro e comincia a fare una scelta razionale, legata alla gestione, legata ai consumi e magari un occhio verde all'inquinamento mondiale vuota per il Ford, perché chiunque lo ha provato è rimasto basito, è rimasto proprio a bocca aperta perché questo rapporto silenziosità e potenza è indescrivibile a meno che tu non lo guidi. Giustissimo. Quello era l'F150 Platinum e qua invece c'è l'ultimo arrivato, l'ultimo arrivato di casa Chevrolet, che è un marchio al quale sia tu e io siamo molto legati. Un frontale che è un capolavoro, quasi una scultura, arrivo a dire, ha molto più cromo rispetto a tutti gli altri e ha anche tanto altro da dire. Ha tanto altro da dire, è un motore 5300, continuano ad andare avanti con questa generazione denominata LS, tutto in alluminio, con un controllo e una gestione dei consumi che io ho già studiato la mappa, l'ho già studiato nei manuali, sai che io da meccanico quale solo vado a sviscerare gli acronimi di tutte quelle cose che abbinano al motore, per cui devo sapere che è sconvolgente. A livello tecnico se funziona, come hanno detto, e mantengono i consumi per pareggiare o comunque arrivare a confrontarsi con il 3500 Ecobus, sono stati veramente bravi. Non manca il 6200, non manca il 6 cilindri, ma il 6 cilindri non lo vedrai mai in questa configurazione qua. Quindi un LTZ a 6 cilindri non lo trovi, mentre invece la Ford se n'è fregata, ha detto ti do il Platinum anche con il 2700. Ok, Mauro, e poi ne prendiamo ancora in studio, ti chiedo a questo punto, visto che abbiamo conosciuto vari aspetti di un mondo fantastico e ammaliante come quello dei pick-up americani, abbiamo parlato di Ram Sport, abbiamo parlato del Rebel, lo Rebel 8 come lo chiamiamo noi, abbiamo parlato del F-150 Ford, abbiamo parlato del Silverado, ultimissimo arrivato di casa a Chevrolet, ci dai un'idea dei prezzi, il range di spesa per avere questi mezzi? Per un taglio importante, quindi i super accessori che tutti noi vogliamo, 45-55 più IVA. Per avere abitacoli al top, c'è veramente un ambiente, io paragonarlo alle tedesche mi dà fastidio perché no. No, 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 anche io non ti voglio fare. Comunque hai un ambiente lussuoso con tutti gli optional che si possono immaginare, anche qualche optional che non si può immaginare, però con la possibilità di caricare se volete una casetta dietro. Ma infatti la cosa bella da far scoprire ai ragazzi a casa è il cassoncino, bisognerebbe scoprire cosa significa avere una macchina col cassoncino. Comunque, ababa, ababa, oggi se ti viene a prendere a piedi un Dodge Ram Sport come quello là te lo do a 45 mila più IVA. Stai facendo la televendita! Alla, 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 alla! Non trevi sempre in giro, lo faccio, è l'unica volta. Torniamo in studio? Torniamo in studio? Torniamo in studio, a piedi così? Sì, così di corsa. Io vado a pescare senza l'esca, eh? Io torno a pescare. Torniamo in studio, a piedi così? Noi, stare ati così? Noi, stare ati così?